Grazie a tutti. 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 soprattutto di una scelta che abbiamo fatto e cioè quella di fare insieme, di attuare insieme una simulazione di quello che potrebbe essere l'accreditamento o meglio, un processo di autovalutazione che ci porti a individuare i punti di forza se volete di debolezza di questo Ateneo, ma soprattutto le criticità e come queste criticità possono essere superate. Cioè sostanzialmente se noi oggi ci domandiamo quali sono le difficoltà che ci impediscono di eccellere, rispetto all'orizzonte del 2027 abbiamo la possibilità di intervenire e di migliorare la nostra performance. Le parlavo l'altro giorno e io penso che Vincenzo dopo ce lo chiarirà, non è tanto quello che noi facciamo, ma alle volte come lo comunichiamo, come archiviamo le informazioni rispetto alle attività che facciamo. La stessa nostra oggi conferenza di Ateneo diventa importante perché è un momento di confronto su quello che è il percorso di valutazione e su quello che noi possiamo fare, perché io ho detto questa cosa riguarda tutti, riguarda il personale docente, il personale tecnico amministrativo e bibliotecario, riguarda gli stessi studenti e studentesse che devono essere parte di questo processo, perché la qualità dell'Ateneo è determinata in larga misura anche dalla qualità dei nostri studenti e delle nostre studentesse, del loro impegno, della convinzione che mettono nel loro studio. Ecco perché io credo che oggi sia importante, se potete capire che questo processo di valutazione che si concluderà entro il 2024 ci porterà, nella prima parte del 2023, nel 2025, a individuare quali sono le azioni correttive da porre essere. Per cui non c'è nessuna volontà di oggi, di immaginare questa valutazione, autovalutazione al fine di premiare o punire qualcuno. Lungi da me, lungi da noi questo obiettivo. Dobbiamo invece prenderla come un'opportunità per dire cos'è che non funziona oggi, come può funzionare meglio. Questo deve essere il nostro impegno. Capirete che come Rettore avrei potuto immaginare tutt'altro di non farla proprio questa autovalutazione e di attendere l'orizzonte del 2026. Ma vedete oggi forse la politica ci aiuta. Noi dobbiamo assumerci le responsabilità. Se qualcosa non va, la responsabilità è innanzitutto del Rettore. Io così la vedo. Per cui oggi quello che emergerà da questa autovalutazione saranno le responsabilità di chi ha governato questo Ateneo in questi anni. Mia, del Direttore Generale, della Prolettrice, dei Direttori di Ripartimento, tutti insieme, innanzitutto noi, ma poi tutti gli altri, i dirigenti dell'Ateneo. La responsabilità è innanzitutto nostra e prima di tutto del Rettore. Ma io quella responsabilità voglio conoscerla, voglio capire quali sono stati i limiti della mia azione, cos'è che non ho visto e dov'è che non sono riuscito a intervenire efficacemente. Certo abbiamo avuto la pandemia, abbiamo avuto difficoltà notevoli durante e dopo la pandemia, ma i risultati che abbiamo raggiunto sono inequivocabili, sono sicuramente positivi. Io non posso leggere diversamente. Ieri in senato accademico raccontavo di quelle che sono i risultati, gli ultimi risultati, i finanziamenti che abbiamo ottenuto. Il progetto che stiamo portando avanti, che è un progetto di eccellenza. Ora pensate, faccio soltanto un esempio. Quest'università non aveva una sua area salute, diciamo così perché sarebbe, eppure aveva delle qualità incredibili come nel distempo, un dipartimento di eccellenza, aveva il CNR, l'IT, abbiamo messo a sistema tutto questo e oggi abbiamo la possibilità di eccellere in un settore in cui non esistevamo appena quattro anni fa. In quattro anni abbiamo creato le basi davvero per un successo a livello nazionale internazionale, le basi, vuol dire le fondamenta. Starà chi verrà dopo di me, starà a tutti voi costruire quell'edificio insieme. Ieri sono arrivati i finanziamenti da qualche giorno per l'edilizia, dunque guardo il direttore della progettrice, abbiamo anche le risorse per realizzare questi edifici, ma la cosa più importante e più bella è l'università, non solo gli edifici, non è il contenitore ma il contenuto e quel contenuto siete voi, per cui io non ho dubbi sul fatto che quel progetto possa essere realizzato, che possa essere il progetto dell'Uan Health, un progetto sicuramente inclusivo. Ecco perché oggi siamo qui insieme a parlare di questo processo che dobbiamo attivare. Io ovviamente vi presento, ma innanzitutto voglio ringraziare le persone che sono con me qui oggi. Innanzitutto lasciatemi ringraziare da subito Vincenzo Zara, già rettore di quest'università, perché la sua presenza non è casuale. Vincenzo è uno dei massimi esperti a livello nazionale di valutazione. Averlo oggi con noi vuol dire due cose, uno che abbiamo una risorsa chiave nel guidare questo processo di valutazione e due che questa è una risorsa che è all'interno del nostro terreno e questo ci premia doppiamente, perché abbiamo la possibilità di farlo con risorse interne, con risorse qualificate e vuol dire che ci sono tutte le condizioni in partenza. Per cui lo ringrazio perché ha accettato ovviamente di guidare questo processo per il suo Ateneo e per il futuro di questa Ateneo. Ringrazio ovviamente anche Antonio Ricchio, presidente dell'Ambur. Vedete io raramente mi esprimo in termini molto netti. Dieci, cento, mille Antonio Ricchio. Antonio non è il presidente dell'Ambur. Non è una persona che professionalmente ha per me un posto di assoluto rilievo nel panorama universale italiano, ma è una persona che umanamente è riuscita a reggere un organismo, devo dire l'Ambur, non esattamente, specchio di nodi, è perciuto tutti come un organismo molto tecnico. Eppure Antonio con il suo impegno in questi anni è riuscito a fargli un'istituzione non solo credibile, ma anche assolutamente funzionale allo sviluppo del sistema universitario del nostro Paese, a rendere credibile l'università italiana. Guardate che è una cosa importante, siamo noi che ci impegniamo ogni giorno per far capire al Paese che l'università è davvero la risorsa strategica per il Paese. Ecco perché io ringrazio Antonio, non so se è già collegato, se sta per collegare. E poi il mio ringraziamento a chi affianco a me, alla mia sinistra, innanzitutto il presidente del presidio di qualità, Pietro Alifano. Pietro ha fatto con tutto il presidio in questi anni un lavoro encomiabile, una persona eccezionale sul piano professionale e umano, di cui tutti noi abbiamo avuto esperienza attraverso una conoscenza diretta e la sua umanità, il suo impegno, che è una cosa davvero bellissima e che riflette l'impegno, la professionalità, la passione di ciascuno di lui, per cui ci rappresenta al meglio e ha guidato il presidio in questi anni in maniera eccellente. Io ringrazio lui e tutti coloro che nel presidio svolgono un lavoro fondamentale. Molto temuto talvolta. Ma giustamente, perché se quel lavoro viene fatto correttamente con l'ottica di migliorare la performance dell'Ateneo, io penso che sia nell'interesse di tutti. E poi abbiamo la professoressa Mannarini. Terry oggi è parte integrante del luogo di valutazione che è stato completamente cambiato, eccetto nella persona del professore Ricci, Giuseppe Ricci, che oggi non è qui con noi perché era fuori, ma io lo ringrazio, ringrazio lui e mi sento di ringraziare tutti i componenti del luogo di valutazione che ci hanno lasciato in questo periodo, a partire da un'altra persona eccezionale, e di Diego Pavlari. L'ho visto prima, non so se è qui in mezzo a noi, io vorrei ringraziarlo davvero perché Diego ha fatto un lavoro incredibile in questi anni e anche lui è una di quelle persone, per le persone quali io non posso che nutrire un affetto e una stima profonda, un senso di gratitudine estremi per quello che è e per quello che ha dato e continua a dare al nostro Ateneo. Oggi quel ruolo è nelle mani di Terry Mannarini. Terry è un'altra persona splendida e io credo che la volontà sua di impegnarsi al luogo di valutazione per tutti noi deve essere un punto di riferimento, devi diventare, perché io conosco, perché in questi anni ho lavorato con Terry, sono stato spesso nello stesso dipartimento, come direttore di dipartimento, e vi dico che Terry è un'altra persona eccezionale. Ovi direte, ma tutti sono caratterizzati da queste qualità e questa è la bellezza del nostro Ateneo, cioè che io devo dire che è veramente un Ateneo costruito da persone che ci credono, credono nel loro lavoro, credono nel loro missione e ci mettono passione. Ecco perché Terry sarà un'altra di quelle persone che sono sicuro darà un contributo fondamentale a partire da oggi. L'ho invitata a partecipare, ma lei in realtà è entrata da poco nel ruolo, ma non abbiamo neanche convocato, pensate, la prima riunione del nuovo nucleo di valutazione, ma Vincenzo mi ha detto non c'è processo di autovalutazione se non abbiamo nucleo di valutazione e presidio di qualità al nostro piano, quindi c'è, li abbiamo e fisicamente sono qui per cui siamo veramente tranquilli. Allora a questo punto io chiudo questo intervento, vi ringrazio, ripeto, tutti quanti voi e se non so se c'è collegato, non c'è ancora, perché a questo punto... Pietro, sì, allora la parola a Pietro Rifani. Grazie Pietro. Grazie, grazie anche al Rettore per queste parole di apprezzamento, insomma, forse un po' oltre rispetto a quello che posso realizzare realmente. La ragione per la quale siamo qui oggi è chiaro, insomma, l'Ateneo, proprio sul suggerimento del Rettore, sta avviando un percorso, un percorso di autovalutazione attraverso una simulazione della visita di accreditamento, il cui scopo è ovviamente semplice, è quello di valutare lo stato di tenuta del nostro sistema di assicurazione della qualità, in vista della prossima visita di accreditamento che, come è noto, salvo Rinbi, si verificherà nel 2027, primo semestre. Ma soprattutto alla luce delle grosse novità che sono state introdotte dal nuovo sistema di accreditamento che oramai siamo abituati a conoscere in sigla Ava 3. E non vi nascondo la mia grossa preoccupazione, perché da un lato siamo di fronte a una evoluzione, secondo me rapida per quelli che sono i tempi di risposta normali degli Atenei, la normativa e le linee di indirizzo in tema di assicurazione della qualità. Abbiamo avuto tre cicli di accreditamento, Ava 1, Ava 2, Ava 3. A Ava 2 fa riferimento la visita di accreditamento che abbiamo ricevuto. Adesso siamo in procinto delle visite già in atto dal 2023 al 2027. Quindi un lato c'è questo. L'altra parte la necessità degli Atenei, che sono in genere caratterizzati di una certa resistenza, resilienza diciamo, potremmo dire, ai cambiamenti, di adeguarsi a questi cambiamenti che d'altra parte, come diceva il Rettore, sono fondi di opportunità. Se uno coglie i cambiamenti e quindi coglie anche delle opportunità e quindi delle risorse. E quindi l'esigenza di tenerci pronti al passo. Credo che sia importante a questo punto fare un breve excursus un po' della situazione a cui siamo in questo momento. Quindi mi prenderò 5 minuti semplicemente per fare un po' il punto della situazione, cercare di farlo. L'Ateneo ha ricevuto, come ben sappiamo, la visita di accreditamento nel maggio del 2019, a cui ha fatto seguito il rapporto di accreditamento periodico dell'Ambul l'anno dopo, maggio 2020, ricevendo un giudizio che conosciamo tutti quanti soddisfacente. Soprattutto la visita di accreditamento ha però evidenziato una serie di elementi positivi, ma soprattutto aspetti migliorabili, che sono preziosi e su cui è stata improntata l'attività del Presidio e non solo di tutto il sistema di assicurazione della qualità dell'Ateneo. Tra gli elementi positivi, li cito dal documento, sono la definizione della visione della qualità e la pianificazione strategica articolata in obiettivi realizzabili e verificabili, la partecipazione attiva degli studenti, il sistema di monitoraggio della sostenibilità della didattica, molto importante, l'attività del presidio in merito alla diffusione degli esiti e della rilevazione dell'opinione degli studenti, le attività di valutazione e monitoraggio del nucleo di valutazione sull'intero sistema di assicurazione della qualità. Questi sono gli elementi positivi. Andiamo a quelli che sono gli aspetti migliorabili, forse più interessanti da questo punto di vista, che sono il processo di revisione critica del funzionamento del sistema di assicurazione della qualità, critica e sistematica, io aggiungerei a questo punto. Il processo di consultazione delle parti sociali, con particolare riferimento all'esigenza del contesto territoriale. Terzo punto, un poco più duro, è l'assenza di coordinamento centrale nella raccolta di dati e informazioni, molto importante, le disomogeneità esistenti rispetto al fabbisogno ideale degli spazi, il supporto di personale tecnico e amministrativo dei dipartimenti. Nello stesso tempo, il rapporto di accreditamento periodico dà delle raccomandazioni, tra cui due sono quelle, credo, più importanti, più rilevanti. E leggo testualmente, per quanto riguarda il sistema di assicurazione della qualità della ricerca, l'Ateneo deve affinare gli obiettivi, rendendoli più specifici e misurabili. In particolare, l'elaborazione di indicatori per la valutazione della ricerca è stata intrapresa, a quel tempo ovviamente solo più recente. Secondo, l'attività di terza missione, in particolare il loro monitoraggio, necessita nel complesso di un potenziamento, anche in termini di strutture organizzative e risorse delicate. Ecco, questi sono i punti salienti, quelli principali, che hanno poi, diciamo, innescato la risposta dell'Ateneo con il piano di miglioramento. Quindi l'Ateneo ha adottato un suo piano di miglioramento proprio per rispondere a questi rilievi emersi durante la visita di accreditamento. In pratica, per adeguare, attenzione, questo è un punto importante, adeguare l'Ateneo dava due, perché quello era il riferimento allora della visita di accreditamento. Adesso siamo in Ava3, quindi siamo in un passaggio ulteriore. Molto è stato fatto, credo, in tale direzione dall'Ateneo, molto ancora, sicuramente ancora da realizzare o in corso d'opera. Vorrei citare solo alcune delle azioni realizzate o in corso, diciamo, di completamento, tra cui la riformulazione dei piani strategici di Ateneo e dei piani strategici dipartimentali con indicatori e target più quantitativi, che rendono anche più efficace, ovviamente, il loro monitoraggio, l'azione di controllo. L'affinamento degli indicatori quantitativi per la valutazione della ricerca, distinta per aree bibliometriche e aree non bibliometriche, e il loro monitoraggio a livello di Ateneo e Dipartimento. L'introduzione di indicatori quantitativi per la valutazione delle politiche di reclutamento, questo era stato richiesto dal Senato e dal Presidio. L'avvio di un monitoraggio delle attività di terza missione in patto sociale a livello di Ateneo e Dipartimento. E questa è un'azione in corso in questo momento, con la proposizione di un protopico per la raccolta appunto dei dati. L'implementazione, e questo è importante, ecco, dei sistemi informativi per il coordinamento centrale nella raccolta dati e di informazioni, questo in risposta a uno dei maggiori rilievi tenuti fuori con la visita di accreditamento. L'implementazione dei processi di consultazione delle parti sociali, con particolare riferimento alle esigenze del contesto territoriale, in particolare questo è stato fatto nella fase di avvio dei nuovi corsi di studio. Nonché nei nuovi corsi dottorali di ricerca e, come sapete, i NAVA3 rientrano nel complesso del sistema della qualità di Ateneo. E in ultimo, forse la cosa credo più rilevante, l'avvio di un processo di revisione critica del funzionamento del sistema di ACU, con un processo di riesame del sistema di ACU di Ateneo, alla luce proprio di Ateneo, per appunto verificare il nostro grado di adeguatezza ad Ateneo. Per quanto riguarda l'attività del presidio per Ateneo, ne cito alcune, l'implementazione di procedure per l'ACU di CDS, l'introduzione delle procedure per l'ACU di dottorati di ricerca, in collaborazione con la scuola di dottorato, il supporto e l'esame del sistema ACU di Ateneo, di Rineguida in particolare, e questa operazione si è un po' conclusa con la nomina di una cabina di regge per il riesame che sta operando in questi giorni, sta portando a termine i lavori in questi giorni. Ecco là, un'altra mia grossa preoccupazione deriva proprio dal fatto che Ateneo sancisce direi dei cambiamenti che sono strutturali e sostanziali. In realtà già preannunciati da Ava 2, sono contenuti da Ava 2, ma delineati in maniera precisa, inocchugnabile, inequivocabile da Ava 3, in maniera proprio schematica. Ava 3 lega strutturalmente e strettamente l'assicurazione della qualità a strategia, pianificazione e organizzazione, l'ambito A, e soprattutto alla gestione delle risorse, questo è un ambito molto importante a mio avviso in Ava 3, tant'è che prevede 5 sottoabiti, è l'unico indicatore di sede con 5 sottoabiti, quindi un grosso spazio alla gestione delle risorse. Per cui l'assicurazione della qualità, la qualità non è più una finalità stratta, ma è uno strumento, a mio avviso, una metodologia che dobbiamo seguire in ogni atto per la realizzazione degli obiettivi strategici dell'Ateneo stesso e quindi alla base dei processi organizzativi e direi anche riorganizzativi dell'Ateneo. Ciò implica ovviamente un rafforzamento, un rafforzamento di quello che a me piace chiamare filiera della qualità e quindi anche del sistema dell'assicurazione della qualità in toto. Soprattutto una verifica costante della coerenza tra pianificazione strategica su attuazione, verifica dei risultati, monitoraggio dell'indicatore dei target elaborati dal sistema di assicurazione della qualità e revisione. Cosiddetto ciclo di temi che è ben conosciuto e ben noto. E tale verifica della coerenza, e questo credo che sia forse il punto più importante, deve essere rispettato in ogni atto deliberativo, a livello centrale e a livello periferico. La struttura di Avatree è complessa, sicuramente non affronterò Avatree in questo momento, insomma forse è più semplice leggere quelli che sono i documenti elaborati in maniera molto schematica d'ambulo piuttosto che presentata. Complessa perché tra i requisiti di sede prevede ben 5 ambiti, l'ambito A che abbiamo visto, strategia, pianificazione, organizzazione, l'ambito B molto importante è la gestione delle risorse, l'ambito C e qui capita proprio centrale, infatti credo che abbia una centralità nell'impianto stesso e l'assicurazione della qualità. Poi abbiamo l'ambito D, la qualità della didattica, l'ambito di qualità della ricerca, telsa missione, l'impatto sociale. La cosa molto importante è che per ciascuno di questi ambiti sono indicati quelli che Avur chiama punti di attenzione, vedete sono parecchi, nell'ambito di quali ci sono aspetti da considerare. Questa è la novità importante, schematica. Anche perché per ogni uno di questi punti di attenzione credo che sia necessaria addirittura quasi una delega specifica per le azioni che sono collegabili ad esse. Altri requisiti ovviamente sono quelli che riguardano i corsi di studio, in particolare i corsi di studio in medicina e chirurgia che ha delle specificità importanti, penso al tutoraggio clinico, alle strutture cliniche per esempio. I corsi dottorati di ricerca che sono una novità, ovviamente i requisiti di partimento. Io con questo avrei finito, però prima di finire vorrei magari ringraziare di coloro che hanno collaborato insomma in questi anni a sviluppare questo sogno alla fine che mira la qualità. In particolare l'ufficio accreditamento e qualità che tra l'altro in questi ultimi anni ha sopportato sia l'attività del presidio che quella del nucleo di valutazione, che è fatto doppio capito in qualche maniera, ma anche i vecchi componenti dell'ufficio accreditamento e qualità che hanno lavorato egregiamento e con grosse professionalità, competenze, che sono quanto mai richieste, indispensabili secondo me per portare avanti un lavoro di questo tipo. Sicuramente la ripartizione tecnica e tecnologica, ma è qui il rischio di dimenticare tante componenti, l'Ateneo, qui giusto cito quelle che sono diciamo le strutture con cui ho avuto più contatti, i componenti del presidio della qualità, perché noi, con i quali ho avuto il piacere di collaborare, tutti i presenti, il magnifio rettore, il rettore Zara che ha accettato di guidarci in questo percorso, sono molto contento di questa cosa. Il nucleo di valutazione, a cui auguro un buon lavoro dopo la rielezione e ovviamente tutti voi per l'attenzione. Grazie Pietro, ti ringrazio moltissimo e adesso diamo la parola alla professoressa Tere Manali. in qualità di rappresentante del nucleo di valutazione. Allora buongiorno a tutti, intanto grazie rettore, hai sempre parole molto generose nei nostri confronti e nei miei particolari, io appunto sono stata nominata nel nucleo di valutazione, non si è ancora insediato l'organo nella nuova composizione e il collega Ricci è l'unico membro interno in continuità di mandato che oggi non c'è, quindi intervengo oggi per il nucleo senza tuttavia aver ancora maturato nessuna esperienza specifica nell'attività di quest'organo. Credo che in realtà le attività del nucleo di valutazione, i processi, la documentazione non siano in realtà così diffusamente conosciuti nella nostra comunità accademica, ad eccezione ovviamente degli organi con cui il nucleo si interfaccia, ad eccezione degli altri attori istituzionali che fanno parte del sistema di assicurazione della qualità, per gli altri colleghi e colleghi della nostra università questi aspetti e il ruolo e la funzione del nucleo non sono credo così noti, quindi molto più sarà un breve intervento il mio, vorrei appunto ricapitolare brevemente compiti e funzioni anche alla luce di Ava3 e riprendere sinteticamente alcuni aspetti della relazione annuale 2023 del nucleo di valutazione con i suggerimenti che insomma in qualche modo andremo a prendere in considerazione questi e ulteriori in visita appunto della vista di accreditamento ancora prima della simulazione in cui ci guiderà il professore Zara. Beh i compiti del nucleo di valutazione appunto sono definiti molto chiaramente e credo di dire cose che conoscete, cioè il compito principale del nucleo di valutazione è quello di fare una meta valutazione sostanzialmente dei processi di valutazione che fa l'Ateneo, quindi di monitorare il funzionamento complessivo del nostro sistema di assicurazione della qualità che come sapete copre ormai tutti gli ambiti di funzionamento, didattica, ricerca, terza missione e in realtà copre anche gli aspetti legati alla performance e anche al bilancio perché il nucleo di valutazione di Ateneo è anche un organismo indipendente di valutazione e quindi ha anche la funzione di diciamo esprimersi sulla valutazione dei processi gestionali legati appunto al processo di miglioramento della performance e il nucleo di valutazione ha anche il ruolo, la funzione di verificare l'adeguatezza del processo di autovalutazione, quindi è evidente che questa simulazione di autovalutazione che andremo a fare il nucleo dovrà immagino necessariamente avere un ruolo. Non mi soffermerò neanch'io sul sistema AVA anche perché abbiamo qui un esperto ma poi è così complesso che richiederebbe molto tempo ma vi faccio vedere questa slide semplicemente per evidenziare diciamo il passaggio da appunto AVA 2 ad AVA 3 che rende particolarmente complesso per gli Atenei prepararsi al processo di autovalutazione e accreditamento. Diciamo in generale AVA sin dalla sua istituzione in qualche modo rappresenta la costituzione materiale delle nostre università perché definisce i principi fondamentali cioè la qualità, l'idea del miglioramento continuo della qualità, definisce la separazione delle funzioni per cui noi appunto separiamo didattica, ricerca e terza missione e prevede anche in maniera molto dettagliata tutto ciò che i singoli attori istituzionali sono chiamati a fare per garantire la realizzazione di quei principi fondamentali. Quindi nel passaggio appunto da AVA 2 ad AVA 3, lo faceva vedere prima il professore Alifano, sostanzialmente siamo passati da 4 requisiti fondamentali e indicatori di qualità delle serie e dei corsi di studio che si articolavano in 11 indicatori e 34 punti di attenzione a 5 ambiti di valutazione al posto dei 4 requisiti, 38 punti di attenzione, quelli che prima erano gli 11 indicatori e 84 aspetti da considerare. Quindi diciamo c'è stato un incremento non tanto forse degli aspetti da considerare ma un ulteriore dettagliamento di aspetti che già venivano presi in considerazione in AVA 2. Il AVA 3 non cambia, non modifica sostanzialmente i compiti e funzioni del nucleo, forse li specifica ulteriormente, li specifica in modo più chiaro. Il nucleo è chiamato a produrre una gran quantità di documentazione, quella pubblica e quella forse anche più nota a voi tutti sono la relazione annuale e la relazione delle opinioni degli studenti, sono appunto rapporti che pubblichiamo annualmente, sono disponibili sul sito. Poi ci sono altri tipi di documentazione a carattere più interno, per esempio quella che riguarda la valutazione che il nucleo fa nella proposta di attivazione dei nuovi corsi di laurea, ancora le valutazioni che il nucleo fa relativamente alla performance e al bilancio che in realtà poi rientrano nella relazione annuale e poi diciamo relazioni direttamente all'Ambur, per esempio quelle che riguardano il superamento delle criticità che vengono rilevate dall'Ambur appunto durante le visite di accreditamento periodico come appunto è successo nel 2019 e infine eventuali relazioni relative a corsi di studio o di dottorato o relativamente ai dipartimenti che evidenziassero forti criticità alla luce diciamo della valutazione dell'ultimo coinquegno. Come fa il nucleo a produrre tutta questa documentazione? fa un'analisi di una grandissima quantità di documenti, tutti quelli che vengono prodotti a partire appunto dai corsi di laurea, dai dipartimenti, quindi dalle commissioni didattiche paritetiche, analizza le schede di monitoraggio annuale, i riesiami glitch eccetera eccetera, c'è un lungo elenco su cui non vi tedio, ma oltre all'esame di documenti il nucleo di valutazione come anche il presidio di qualità fa delle audizioni con appunto corsi di laurea o dipartimenti, corsi di dottorato in prospettiva con gli studenti e lo fa o sulla base di elementi che emergono per esempio dalla rilevazione delle opinioni degli studenti oppure come parte delle procedure di follow up dell'accreditamento periodico, cioè lì dove la CEB rileva delle criticità e l'Ateneo e i corsi di laurea sono chiamati a proporre delle azioni per superare queste criticità, il nucleo di valutazione deve monitorare che queste azioni migliorative siano effettivamente state messe in atto e devo dire che ovviamente non avendo ancora fatto parte del nucleo non ho personalmente partecipato alle audizioni, ma da quello che emerge anche dalla documentazione prodotta, le audizioni sono sempre molto informative, per certi aspetti più informative degli indicatori quantitativi che noi possiamo ovviamente recuperare e recuperiamo dalla documentazione, le audizioni hanno sempre la capacità di darci un quadro dei problemi e anche degli aspetti che ben funzionano più fine e quindi per certi aspetti più informativi. La relazione annuale è il documento che in qualche modo fa il quadro di tutte le linee di indirizzo, di programmazione, dei sistemi di monitoraggio che l'Ateneo mette in campo a tutti i livelli, centrale e periferico nei tre ambiti, didattica, ricerca, terza missione e aggiungo appunto performance, quindi un documento molto completo da questo punto di vista. L'ultima relazione annuale che è appunto questa è il 2023, si ispira ovviamente alle linee guida AMBUR-AV3 e quindi ha tutta una prima parte di analisi di quegli ambiti che abbiamo visto prima, poi ha, questa è sempre stata la parte più corposa, tutto ciò che riguarda la valutazione della qualità dei corsi di laurea e appunto dal 2023 anche dei dottorati, dei dottorati di ricerca e dottori di ricerca e quindi fa un'analisi appunto di molta documentazione, tiene delle audizioni e prova a ricostruire il quadro dei processi di valutazione che vengono messi in atto per garantire la qualità dei corsi di dottorato sulla base dei criteri che ovviamente ci indica AMBUR, un'altra parte è dedicata ovviamente alla valutazione della qualità della ricerca e della terza missione, questa è la parte diciamo meno rodata per il nostro Ateneo, su cui c'è ancora, ci sono margini di perfezionamento e di sviluppo e poi una parte appunto conclusiva che riguarda la valutazione della performance e del bilancio. Richiamo qui brevemente e concludo quelli in sintesi, quelli che sono le raccomandazioni che il nucleo di valutazione ha fatto chiudendo la relazione annuale, quindi quali sono i punti di attenzione, gli aspetti di parziale criticità o comunque gli aspetti su cui si invita l'Ateneo a migliorare o implementando delle misure, delle azioni o migliorando dei processi che già sono stati implementati. Quindi le scorro solo brevemente, un primo suggerimento riguarda la necessità di implementare delle azioni per il riesame della governance che sono espressamente previste dalle linee guida di Ava3. Un altro aspetto riguarda l'adeguamento e il rinnovamento del nostro sito web, questo è un aspetto credo segnalato già in precedenza dal nucleo e che emerge e continua a emergere dalle audizioni con gli studenti in modo particolare. Ancora un altro suggerimento riguarda l'aspetto relativo ai reclami degli studenti relativamente alle problematicità dei corsi di laurea, per le quali gli studenti lamentano di non avere chiarezza sulle procedure e sui referenti istituzionali per poter gestire, trattare questi aspetti. Un altro suggerimento del nucleo riguarda invece le azioni di orientamento su cui il nostro Ateneo ha molto investito in quest'ultimo anno e cioè un'indicazione di valutazione di queste azioni di orientamento in termini di risultati ovviamente ma anche in termini di analisi costi benefici. Per quanto riguarda l'ambito della progettazione dell'offerta formativa e qui riferimento in particolare all'istituzione dei nuovi corsi di laurea, la raccomandazione del nucleo è quella ad una migliore efficienza di flussi interni di documentazione, essendosi evidentemente riscontrate in passato delle discresie o delle difficoltà che hanno impedito poi appunto al nucleo di poter fare l'esame dei documenti nel modo e nei tempi in cui doveva farlo. La parte della ricerca riguarda la valutazione della ricerca è sicuramente la parte su cui ancora ci sono da perfezionare delle azioni e dei processi, per esempio uno dei suggerimenti del nucleo è quello di rendere più efficiente il sistema di fundraising e di tenere la barra dritta nell'utilizzo di parametri di merito per la valutazione della ricerca, cosa che già ovviamente l'Ateneo fa. Nell'ambito della performance ci sono tutta una serie di suggerimenti, ovviamente il documento è pubblico quindi lo potete consultare, suggerimenti sul miglioramento del sistema di misurazione, qui mi confondo sempre, chiedo aiuto al direttore generale il sistema di misurazione della performance con un invito a coinvolgere gli stakeholder esterni, quindi portatori di interessi nella definizione degli obiettivi di valore pubblico e poi un invito a una maggiore connessione tra gli obiettivi strategici e gli obiettivi di sviluppo sostenibili. Anche sul bilancio un'indicazione generale di approfondire il collegamento tra allocazione delle risorse e risultati conseguiti, quindi avere un'idea di costruzione del budget legato agli obiettivi. Concludo aggiungendo solo una nota personale, cioè in vista di questa simulazione che andremo a fare, credo che sarebbe sia molto importante, ma lo diceva già il rettore all'inizio, quindi non faccio altro che ribadirlo, socializzare e condividere questa iniziativa nel senso non soltanto come stiamo ottimamente facendo in questa conferenza di Ateneo, informare le persone di ciò che si andrà a fare, ma provare a condividere anche a un livello più capillare, quindi più legato poi alla fine ai dipartimenti, ai corsi di laurea e non limitato ai soli soggetti istituzionali, cioè ai soli presidenti di corsi di laurea, ai soli presidenti delle commissioni didattiche paritetiche eccetera, la condivisione di questi processi perché circola poca informazione su questi aspetti che hanno una componente tecnica notevole, perché c'è una componente tecnica, ma che funzionano meglio, vengono implementati meglio se siamo in grado di veicolare il senso dell'operazione, diversamente rischiano di essere percepiti come l'ennesimo aggravio, perché comunque un aggravio sono, e io non mi sento di nascondere questo, che si scarica sulle persone senza che ne valga la pena, mi permetto di dire così. Vi ringrazio molto. Ringrazio la professoressa Mannarini, Terri, per questo intervento, vedete che è già entrata pienamente nel ruolo e ovviamente il suo intervento è riuscito anche a valorizzare quello che è la funzione del gruppo di valutazione, quali sono le responsabilità, quali sono le azioni che poi ne restano. Il suo richiamo finale, lei va a rafforzare quello che noi gli abbiamo detto inizialmente, perché il sistema di autovalutazione deve coinvolgere tutti noi, è veramente importante e imprescindibile, dobbiamo capire che questo è un modo per assumere coscienza della qualità del nostro Ateneo e anche dei limiti, ma soprattutto per individuare le azioni più opportune da poter essere per colmare i gap e diventare un Ateneo sempre più performativo. Questo penso che sia l'obiettivo di tutti noi. Certamente sarà richiesto a tutti voi un impegno, ma io sono assolutamente convinto che se noi dividiamo questo impegno tra tutti sicuramente riusciremo a portare a termine questo processo di valutazione con successo e ottenere eccellenti risultati quando invece si avrà il processo di accreditamento. A questo punto cedo la parola al professor Ezzara. Prego Vincenzo. Grazie, grazie e buongiorno a tutti, io ringrazio a tutti e a tutti, ringrazio il magnifico rettore per l'invito, ringrazio anche la collaborazione da parte del presidio, il professor Alifano, e anche la collaborazione che sicuramente sarà prestata da parte del nucleo di valutazione. abbiamo già parlato con Terry prima, insomma, delle cose da fare. Ringrazio tutti voi per la partecipazione. Come accennava il rettore poco fa, ma anche gli altri che mi hanno preceduto, il senso di questa iniziativa è quella di fare appunto una simulazione. Simulazione che cosa significa? La visita di accreditamento periodico sarà nel 2017, è nel 2027, quindi si potrebbe stare ragionevolmente tranquilli fino al 2027, arrivare a fine 2026, a inizio 2027 e iniziare a preoccuparsi a gennaio 2027. Cioè secondo me è troppo tardi, perché ovviamente significa fare un'autovalutazione che sarà l'autovalutazione vera, quella effettiva, alcuni mesi prima di quella che sarà la visita di accreditamento periodico, senza avere avuto la possibilità di riflettere antecedentemente su quelle che sono gli aspetti da migliorare all'interno dell'Ateneo. Il significato della simulazione non è quello di colpevolizzare qualcuno, andare a scovare le criticità, a fare la lista dei buoni e dei cattivi, ma è un momento, riportato dopo quindi nella slide questa frase che è presa dall'Ambur, è un momento di riflessione organizzativa, riflessione organizzativa e funzionale. Sulla base di questa riflessione si identificano gli aspetti da migliorare e si adottano delle azioni per il miglioramento e il superamento delle criticità prima della visita di accreditamento periodico. Quindi è una simulazione che serve a prevenire quelle che sono le criticità che saranno identificate da parte di Ambro, fisiologicamente ne vengono identificate tante, se abbiamo la possibilità di ridurre queste criticità grazie alla simulazione, ben venga. Naturalmente questa è un'iniziativa che sta adottando già qualche Ateneo in Italia, faccio parte del nucleo di valutazione di Genova, dell'Università di Genova, Genova sta adottando la simulazione in maniera massiva, ha preso spunto del fatto che io sono componente del nucleo per coinvolgere tutti, tutti i dipartimenti, i corsi di studio, i corsi di dottorato e la stessa sede, quindi l'Ateneo, con la simulazione. Ora come accennavano i colleghi poco fa, questa è la struttura del modello Ava3, struttura del modello Ava3 che probabilmente conoscerete, sulla base delle linee guida che sono state pubblicate da parte di Ambro. Ci sono cinque ambiti fondamentalmente, il primo ambito è quello della strategia, pianificazione ed organizzazione che io qualche volta riassumo sotto forma di mente, questa è la mente che decide e quindi sono gli organi di governo, e quindi il Rettore, Direttore Generale, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione che adottano delle decisioni, che sono delle decisioni strategiche e che hanno un impatto su tutto l'Ateneo. Quindi questo che cosa significa? Che l'ambito B, che è quello strettamente correlato all'ambito A, che è la gestione delle risorse, sono ambiti strettamente correlati tra di loro. Io ho fatto da Presidente di CEV recentemente con Ava3, anzi ho avviato in Italia il modello Ava3 con la valutazione di Humanitas, della Università a Milano, quindi che è un'università privata nel campo della medicina, essenzialmente infermieristica e così via, e subito dopo Torino. Ebbene il compito della CEV è quello di verificare se tra le decisioni che vengono ad essere assunte in relazione a quella che è la strategia dell'Ateneo e la gestione delle risorse ci sia coerenza per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi. Quando parliamo di gestione delle risorse parliamo di gestione di risorse finanziarie, gestione di risorse di personale, docente tecnico-amministrativo, parliamo di servizi in generale, parliamo di logistica, quindi parliamo di attrezzature, parliamo di edifici, parliamo di aule, parliamo di laboratori, parliamo di tutto ciò che viene ad essere messo in campo in funzione del raggiungimento degli obiettivi. Credo che questo sia un punto abbastanza critico perché qualche volta emerge, non faccio riferimento alle visite Ava3, quelle recenti, però in generale anche Ava2, emerge un ottimo piano strategico che viene ad essere considerato essenzialmente sulla carta come il libro delle buone intenzioni e quindi dall'altro lato quella della gestione delle risorse che è dissonante, discordante rispetto a quelli che sono gli obiettivi strategici. Quindi è molto importante fare anche questa simulazione prima della visita vera in maniera tale da rendersi conto qual è il grado di allineamento tra la strategia e la gestione delle risorse. all'interno dell'Ateneo. L'ambito C è quello che riguarda l'assicurazione della qualità e quindi ruolo e funzioni del presidio e del nucleo essenzialmente oltre che degli altri attori dell'assicurazione della qualità e quindi per esempio le paritetiche, i gruppi di riesame, tutti coloro che agiscono a vari livelli all'interno dell'Ateneo. L'ambito D è la qualità della didattica e dei servizi agli studenti e l'ambito E è la qualità della ricerca, della terza missione e impatto sociale. Esiste l'ambito DCDS che è quello relativo alla valutazione dei singoli corsi di studio, ovviamente vengono ad essere scelti dei corsi di studio a campione dell'Ateneo, però per questi corsi di studio scelti a campione si fa una valutazione accurata. Poi l'ambito DPHD che riguarda la valutazione dei corsi di dottorato, anch'essi scelti a campione e l'ambito EDIP che riguarda la valutazione dei dipattimenti scelti a campione. Qual è la gerarchia del modello AVA3? Vi prego di prestare un attimo di attenzione a questa slide per capire il funzionamento. Noi abbiamo fatto prima riferimento agli ambiti, gerarchicamente poi ci sono i sottoambiti, poi ci sono i punti di attenzione. Ebbene i punti di attenzione, come veniva rimarcato dai colleghi, rappresentano il punto di attenzione specifico a livello di sede, di corso di studio, di dottorato, di dipartimento, per ciascuno dei quali deve essere compilata l'autovalutazione. I punti di attenzione a livello di sede sono 24, quindi significa 24 autovalutazioni. A livello di corso di studio ci sono 15 punti di attenzione, 15 autovalutazioni. Ci sono dei punti di attenzione a livello di dipartimento e di corso di dottorato. I punti di attenzione quindi sono specificati sotto forma di aspetti da considerare. Gli aspetti da considerare sarebbero una sorta di indice del punto di attenzione. Cioè, il punto di attenzione è breve, c'è una piccola denominazione, poi c'è l'indice, quali sono gli aspetti che devo considerare relativamente al punto di attenzione. Di conseguenza nell'autovalutazione gli elementi rinunciabili sono questi, PDA a DC, punto di attenzione e aspetti da considerare. Ci sono anche le note, le note sono aggiuntive, sono delle cose in più in cui Angor specifica ulteriori dettagli relativamente ai punti di attenzione. Questo è un esempio dell'ambito di valutazione D, però volevo soffermarmi soprattutto sulle tappe dell'accreditamento periodico. Queste sono le tappe dell'accreditamento periodico, sono le tappe della simulazione, perché noi simuliamo l'accreditamento periodico. Quindi il primo punto è l'autovalutazione relativamente a ciascun punto di attenzione. Quindi questo significa per ciascun corso di studio, dottorato, dipartimento e sede, relativamente ai punti di attenzione si fa l'autovalutazione. Poi le fonti documentali che supportano l'autovalutazione. L'autovalutazione significa che relativamente ai punti di attenzione io mi autovaluto, però naturalmente devo supportare quelle affermazioni con dei documenti. I documenti quindi sono finisco solamente questo slide e diamo la parola al presidente dell'AMBUR. Stavo dicendo ogni autovalutazione deve essere supportata dalle fonti documentali, cioè quello che noi scriviamo relativamente al punto di attenzione deve essere documentato da verbali, da report, da delibere, eccetera. Poi c'è la valutazione preliminare da parte della CEB, segue l'audizione a distanza, l'audizione a distanza viene fatta per i corsi di studio e per i dottorati e poi la visita in loco. La visita in loco viene fatta per la valutazione della sede, per la valutazione dei dipartimenti e naturalmente per il corso di medicina. Il corso di medicina è premiale, quindi di conseguenza c'è la visita in loco, a differenza degli altri corsi di studio. Naturalmente è premiato anche il dipartimento di medicina, perché anche il dipartimento di medicina di default verrà ad essere visitato durante l'accreditamento periodico. Questo si conclude con la relazione preliminare della CEB, con le contraddedizioni che vengono ad essere elaborate da parte dell'Ateneo e poi il rapporto finale da parte dell'AMBUR. Quello che noi faremo è l'autovalutazione corredata dalle fonti documentali relativamente ai vari corsi di studio, dottorati, sede, eccetera. Poi ci sarà una fase valutativa, ovviamente non fatta dalla CEB, ma sarà una fase valutativa interna in maniera tale da verificare quelli che sono gli aspetti migliorabili e poi alla luce di quelli che sono gli aspetti migliorabili adotteremo delle azioni di miglioramento in vista della visita effettiva che sarà quella del duemilaventisette. Allora interrompo e cediamo la parola al professore Uricchio. Presidente, benvenuto. Buongiorno al professor Zara, al pastorettore e soprattutto a tutti i partecipanti. Mi fa piacere pagare un saluto. Ho tentato in apertura, ma non siamo coordinati con i tempi, ma credo che sia sempre un'occasione utile questa di approfondire le tematiche legate ad ABA3, ai percorsi vicini o lontani di accreditamento, perché ABA è un processo complesso che ovviamente si inculmina e si conclude con la visita e con il rapporto dell'agenzia, ma muove ovviamente da un'attività di autovalutazione che durante il quinquennio va comunque percorsa. Quindi pur se la scadenza temporale della visita è il 2027, come nel caso di Unisalento, mi pare particolarmente apprezzabile la vostra iniziativa di approfondire, di analizzare, di preparare anche il percorso e soprattutto di autovalutare anche i vari corsi di studio, i dottorati, la realtà di ABA3, il corso di medicina che necessariamente è sottoposto a valutazione e anzi questo termine un po' più ampio previsto per Unisalento è proprio legato anche all'attivazione del corso di medicina dopo l'accreditamento dell'AMBUR per la World Federation for Medical Education, un percorso che muove dalla diffusione della cultura della valutazione, dall'individuazione di metodologie di processi interi e dalle esperienze. Quindi poterne discutere, Vincenzo Zara che oltre al suo ruolo nel Ministero, nella CRU, è un impegno direttore e anche valutatore dell'AMBUR, è senz'altro un'esperienza particolarmente virtuosa. Quindi di questo sono come AMBUR lieto e ovviamente confermo la disponibilità dell'Agenzia a qualunque tipo di approfondimento. Abbiamo fatto incontri praticamente regionali sulle varie sedi, anche quello pugliese. Il ciclo di Deming è quello che veniva ad essere richiamato prima, cioè che cosa significa? Il ciclo di Deming è il ciclo che riguarda la pianificazione, l'attuazione, il monitoraggio e il miglioramento. Nel momento in cui noi compiliamo l'autovalutazione relativamente ad un punto di attenzione, per esempio l'analisi della domanda di formazione, diciamo il fatto di sentire gli stakeholder per quanto riguarda le esigenze formative, se fate l'autovalutazione non iniziate a descrivere il comitato di indirizzo. Qualcuno parte così, ho visto le autovalutazioni in cui si dice il comitato di indirizzo è costituito da 20 componenti, di cui 10 sono questi e 10 sono questi. Poi mettete le date in cui il comitato si è riunito, poi mettete l'esito e così via. Voi dovete ragionare in termini di pianificazione, cioè qual è la logica che avete seguito nel cogliere le esigenze formative, quindi qual è la spinta logica che vi ha portato a scegliere, per esempio gli ordini professionali, a consultare degli studi di settore e così via. Il processo logico che voi avete sviluppato, quello che avete attuato, quindi la pianificazione e l'attuazione, il monitoraggio di quello che avete attuato, l'identificazione dei punti di forza e delle aree di miglioramento e di conseguenza le azioni di miglioramento. Quello che dice Anvor è che nell'autovalutazione si racconta l'approccio al punto di attenzione, non semplicemente l'elenco di quelle che sono le cose che normalmente uno ha fatto, mette in mostra, ma semplicemente rappresentare quello che voi avete seguito come iter logico. È anche importante una omogeneità stilistica di fondo delle autovalutazioni, in maniera tale che per quanto riguarda il corso di studio o la sede, per esempio, ci sono tanti punti di attenzione, dal punto di vista delle autovalutazioni siano delle autovalutazioni anche omogenee dal punto di vista stilistico e non si noti subito il fatto che sono state scritte da persone diverse con approcci diversi, perché naturalmente questo crea un problema alla CEV nel momento della valutazione. Troverà tanti approcci diversi a seconda dei punti di attenzione. Le fonti documentali servono per attestare dal punto di vista documentale quella cosa che voi avete affermato nell'autovalutazione. Le fonti documentali devono essere pertinenti all'autovalutazione, devono essere fornite in modalità appropriata, come indicato nella scheda di valutazione. Che cosa significa in modalità appropriata? È da evitare fornire fonti documentali di 200 pagine. Poiché i punti di attenzione sono centinaia, io ne ho visti nell'Ateneo di Torino, erano addirittura circa 300 punti di attenzione, tra sede, 16 corsi di studio, i dipartimenti, i dottorati eccetera. È umanamente impossibile che la CEV riesca a leggere tutte quelle fonti documentali. Ogni punto di attenzione ha le proprie fonti documentali. Se ogni fonte documentale è di 200 pagine e ogni punto di attenzione richiede dalle 8 alle 16 fonti documentali, cioè una CEV anche costituita da 30 componenti, quelli che eravamo a Torino, materialmente non ce la fa. Quindi bisogna fornire delle fonti documentali o dei documenti sintetici rappresentativi di quello che uno ha detto nell'autovalutazione e soprattutto, vedete, modalità appropriata. Modalità appropriata che cosa significa? Mettere il titolo della fonte documentale sotto una spiegazione della fonte, cioè dire questa fonte che io fornisco serve a attestare dal punto di vista fattuale quello che è affermato nell'autovalutazione e poi soprattutto indicare anche magari le pagine o i capitoli o i paragrafi di quel documento relativamente a quello che noi vogliamo quindi fornire. Le fonti documentali devono essere aggiornate e non ripetitive. Per esempio abbiamo visto in alcuni casi che il piano strategico che era stato fatto da pochissimo, poiché ci sono tanti punti di attenzione, abbiamo trovato il piano strategico nel punto di attenzione 1, il piano strategico nel punto di attenzione 2, il piano strategico nel punto di attenzione 2, cioè alla fine a memoria avevo imparato il piano strategico. Cioè è ovvio che quello era il documento più aggiornato, il documento onnicomprensivo e così via, però il documento deve essere come dire coerente a quello che è il punto di attenzione. Le fonti devono essere aggiornate, alcune volte abbiamo trovato delle fonti obsolete e addirittura poi la CEV andando a visitare il sito dell'Ateneo ha scovato delle fonti più recenti rispetto a quelle che erano state caricate nell'autovalutazione. Questo significa anche un po' di sciatteria in chi ha curato l'autovalutazione, cioè chi ha curato l'autovalutazione non sa neanche che c'è un documento più aggiornato rispetto a quello che è stato caricato. Quindi questo significa anche in vista della preparazione della visita anche una forte opera di coordinamento interno. Gli uffici devono dialogare, ci deve essere informazione aggiornata diffusa in maniera capillare all'interno dell'Ateneo. Le fonti documentali inoltre non devono confondere la CEV, cioè qualcuno vuole abbagliare la CEV, carica tante fonti documentali in cui diciamo il desiderio recondito è speriamo che la CEV si impressiona dal numero di fonti documentali. Sapete qual è l'effetto? La CEV si arrabbia, si irrita con tutte quelle fonti documentali perché alla fine leggendo l'autovalutazione aveva capito qualcosa, leggendo le fonti documentali non ha più capito nulla rispetto a quello che c'era nell'autovalutazione. Quindi ci deve essere anche coerenza tra fonti documentali fornite e quello che io ho attestato nell'autovalutazione. La valutazione preliminare della CEV, questo ci sarà nella visita vera, noi lo faremo all'interno, cioè nel senso che durante la simulazione poi ci sarà qualcuno, il rettore provvederà, insomma io guiderò la simulazione dal punto di vista tecnico operativo, però immagino che sarà il presidio, sarà il nucleo, qualcuno farà le veci della CEV nel momento in cui la CEV poi durante la visita di accreditamento vero fa la valutazione preliminare. Nella valutazione preliminare viene letta l'autovalutazione e le fonti documentali. Una buona autovalutazione facilita la valutazione che è fatta da parte della CEV, cioè se voi riuscite a prendere per mano i valutatori o quelli interni o quelli esterni, a prendere per mano quindi i valutatori e ad accompagnarli relativamente a quello che voi avete fatto di buono a livello di sede, a livello di corso di studi eccetera, siamo già a metà dell'opera. Qualche volta la valutazione risulta non soddisfacente perché la CEV in buona fede non ha capito quello che avete fatto sulla base dei documenti prodotti, sulla base di come vi siete descritti nell'autovalutazione. La valutazione tiene conto anche, attenzione che anche questo è importante, del grado di copertura di ciascun punto di attenzione. Ricordate nella gerarchia per ogni punto di attenzione c'è l'autovalutazione, ogni punto di attenzione c'è gli aspetti da considerare. Per esempio un punto di attenzione c'è cinque aspetti da considerare che rappresentano l'indice. Quando voi fate l'autovalutazione scrivete quell'indice e seguite l'indice nell'autovalutazione. Se voi non trattate degli aspetti da considerare, la valutazione che magari è eccellente per alcuni aspetti da considerare ma ne trascura altri, la valutazione automaticamente si abbassa perché c'è il grado di copertura degli aspetti da considerare. Cinque aspetti da considerare, tre li avete trattati benissimo, due non avete fatto niente ma non vi siete neanche preoccupati di descriverli nell'autovalutazione, cioè dire che siete nella fase preliminare, state per affrontare, vi proponete di eccetera eccetera, ma li avete completamente trascurati, automaticamente si abbassa la valutazione che viene fatta da parte della CEV. Poi c'è l'audizione a distanza e la visita in loco, sapete che durante l'audizione la CEV o a distanza per i corsi di studio e i corsi di dottorato o in presenza per la sede, per quanto riguarda medicina e per quanto riguarda i dipartimenti farà delle domande. Quali domande la CEV fa? La CEV fa le domande per le cose che non ha capito. Quindi nel momento in cui vi fa la domanda automaticamente capite che non ha capito la CEV relativamente a quella cosa che vi chiede. Quindi da lì avete anche come dire il sentore di quello che la CEV ha capito di quello che voi avete prodotto. Quindi queste domande che tecnicamente vanno a finire in un diario di visita e l'elenco delle domande che la CEV organizza in ordine di priorità dal punto di vista dell'ordine con cui farà le domande al rettore, al direttore generale, al coordinatore del corso di studio e quando parte esordisce la CEV con qualcosa, ahimè, quella è la cosa non chiara che voi non avete scritto probabilmente in maniera chiara. Ovviamente non è sempre così perché alcune volte la domanda vuole avere delle conferme relativamente a quello che voi avete scritto però generalmente è qualcosa che non è molto chiara nell'autovalutazione e nelle fonti documentali. Le audizioni vengono ad essere verbalizzate e le risposte che poi vengono fornite da voi, da noi, dai referenti dell'Ateneo, vengono utilizzate dalla CEV. Se le risposte servono a chiarire i dubbi, la valutazione preliminare della CEV migliora perché voi avete chiarito i dubbi in sede di audizione. Qualche volta è successo che durante l'audizione voi avete peggiorato la valutazione preliminare perché avete risposto così male che avete confuso rispetto alle fonti documentali e rispetto all'autovalutazione che voi avevate prodotto. Quindi attenzione anche ad essere opportunamente preparati ai fini dell'autovalutazione. Per esempio in un Ateneo in cui c'era l'approvazione del piano strategico che veniva ad essere vantato tantissimo da parte dell'Ateneo, noi abbiamo audito separatamente i componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione. In primis il Rettore, tra il Rettore Vicario e il Direttore Generale, il Rettore ha detto che è stata un'operazione partecipata da parte di tutta la comunità accademica eccetera eccetera, io ho chiesto ai senatori qual è stato il vostro contributo? L'abbiamo approvato il Senato, ma l'avete letto? No, ha garantito il Rettore. Nel senso non avevano forse neanche letto quel documento che avevano approvato, ovviamente questo sto estremizzando, però questo può accadere a livello di corso di studio, a livello di Dipartimento, per esempio a livello di Dipartimento c'è il piano triennale dipartimentale che deve essere nuovamente partecipato da parte di tutto il Consiglio di Dipartimento. Non è che il Direttore lo propone, gli altri ascoltano, votano e diciamo poi non sono consapevoli di quello che hanno approvato. L'audizione ovviamente viene ad essere condotta in modo formale mettendo a proprio agio gli interlocutori. La fascia di valutazione, sapete che le fasce adesso sono quattro, la pienamente soddisfacente, la soddisfacente, la parzialmente soddisfacente e la non soddisfacente. Vengono ad essere indicate anche con le lettere A, B, C e D. Generalmente ho visto, rispetto al modello AVA2, nel modello AVA2 c'erano tre fasce di positività, invece in questo caso ci sono due fasce di positività, che c'è un appiattimento quindi verso il soddisfacente. Cioè nel senso che c'è un appiattimento verso la B, quindi rispetto a quelle che erano le fasce precedenti che erano tre. Questo significa che un appiattimento verso il soddisfacente, perché il pienamente soddisfacente significa che è fatto tutto benissimo, tant'è che vengono ad essere proposte delle buone prassi, anche quindi rivolte ad altri atenei. Se questo non è il caso, allora si scivola verso il soddisfacente o verso il parzialmente soddisfacente. Ci auguriamo che non venga ad essere assegnata la D, cioè quella relativa al non soddisfacente. Perché è importante la valutazione A o B? Perché c'è contemporaneamente una valutazione di processo, che è quella che viene ad essere fatta dalla CEV e c'è una valutazione di risultato sulla base di indicatori, essenzialmente quantitativi, però ci sono anche indicatori di tipo qualitativo. Questa valutazione di risultato è fatta da ANVUR, direttamente dal consiglio direttivo dell'ANVUR. La valutazione di processo è fatta dalla CEV. Che cosa significa? Se per esempio in un corso di studio noi abbiamo ottenuto una valutazione di processo di tipo B, che è buona, è soddisfacente, io finora non ho visto dei corsi di studio con valutazione di processo di tipo A pienamente, ma di tipo B, soddisfacente, e poi con la valutazione dei risultati io ho preso la D, cioè non soddisfacente, ebbene una valutazione di tipo B, di processo soddisfacente, diventa C come valutazione finale. Io parto bene, cioè la CEV ha valutato B, il corso di studio è soddisfacente. ANVUR va a verificare gli indicatori e quando verifica gli indicatori sono degli indicatori relativi ai risultati che sono stati ottenuti e va a verificare due cose, il trend nel tempo, quindi se gli indicatori declinano per esempio, e il confronto a livello macro regionale o nazionale. Ebbene se siamo sfortunati la maggior parte degli indicatori è decrescente come trend e si posiziona al di sotto dei livelli dell'indicatore a livello macro regionale o a livello nazionale, ebbene la B diventerà C. Quella valutazione di tipo C nel corso di studio determina un accreditamento condizionato nel corso di studio, che non è bellissimo, perché non è un accreditamento di cinque anni, è un accreditamento di un anno o di due anni, bisogna superare delle condizioni per avere l'accreditamento di tipo pieno. Quindi per questo motivo è importante che nella simulazione si tenga conto sia della valutazione di processo, ripeto con le autovalutazioni, ma si tenga conto anche dell'andamento degli indicatori rispetto ad altri corsi di studio. Il giudizio finale dell'Ateneo, l'Ateneo potrebbe andare in fascia A o potrebbe andare in fascia B, fascia B è l'accreditamento soddisfacente, e l'accreditamento soddisfacente si ha quando almeno il 50% dei punti di attenzione ha ottenuto la valutazione soddisfacente o pienamente soddisfacente. Quindi noi abbiamo 24 punti di attenzione sulla sede per ottenere la B, quindi noi dobbiamo avere almeno la metà di quei punti di attenzione con valutazione soddisfacente o pienamente soddisfacente. Io ancora non ho visto degli Atenei con accreditamento pienamente soddisfacente, significa che il 75% dei punti di attenzione deve essere pienamente soddisfacente. Lo vedremo. 24 punti di attenzione, il 75% dei 24, significa 18. 18 punti di attenzione sui quali io sono eccelso per quanto riguarda la strategia, la gestione delle risorse, per quanto riguarda l'assicurazione della qualità e così via. Idem per il corso di studio, nel quale per avere un accreditamento pienamente soddisfacente, almeno il 75% dei punti di attenzione deve avere un giudizio, una valutazione pienamente soddisfacente. Ricordate che nel caso del corso di studio sono 15 i punti di attenzione, in realtà sono 14, perché c'è un punto di attenzione che riguarda i corsi di studio a distanza, prevalentemente integralmente a distanza, i corsi di studio convenzionali o misti, quindi la totalità, insomma, o la quasi totalità, hanno 14 punti di attenzione. Altrimenti si prende la B. Io ho avuto esperienza di B come valutazione di processo che scivolano a C con i risultati. E quindi da valutazione soddisfacente si va a finire ad una valutazione quindi di tipo condizionato, un accreditamento di tipo condizionato con la lettera C. Dal punto di vista matematico, però il discorso fondamentale, quello che abbiamo detto prima, è che i punti sono tra di loro correlati. Cioè l'ambito A è correlato con l'ambito B, così come con l'ambito C, l'ambito D e l'ambito E. Non è che io posso puntare solo su alcuni. Qualcuno fa un ragionamento egoistico e dice io punto solo su alcuni in maniera tale che metto al sicuro quei punti e tralascio gli altri. Però diciamo il vantaggio di Ava3 o forse il lato positivo di Ava3 è proprio un approccio sistemico, olistico a quello che viene ad essere valutato. Qui io non posso eccellere in qualcosa e vado malissimo da altri punti di vista. Allora concludo con questa essenzialmente che sono le quattro fasi per la preparazione alla visita che sarebbe la simulazione. Vi è una prima fase che è quella che stiamo vivendo oggi ma che abbiamo vissuto già diciamo in senato accademico, già in incontri preliminari, che è quella della formazione su Ava3 e la consapevolezza su Ava3. Che cosa significa? Diffondere il più possibile capillarmente quelle che sono le caratteristiche del modello Ava3. Ma io andrei un po' al di là perché come diceva il professor Alifano leggendo le linee guida c'è scritto tutto sulle linee guida. La cosa importante è capire il senso di quello che si fa. Il senso di quello che si fa è un approccio mirato al miglioramento. Per mirare al miglioramento bisogna essere onesti nell'autovalutazione soprattutto se facciamo la simulazione è inutile che ci nascondiamo o inutile mettere in evidenza quindi in maniera esagerata quelli che sono i punti di forza e poi nascondere quelle che sono le aree di miglioramento. Noi stiamo facendo proprio questo per evidenziare i punti dove migliorarci prima della visita vera, quella che ci sarà nel 2027. A questo seguirà l'autovalutazione di prova fatta a livello di sede, corsi di studio, dipartimenti e dottorati. Pensavamo con il Rettore di fare Presidio e Nucleo di fare questa operazione entro fine 2024 quindi in maniera tale da lasciare dei mesi alle strutture didattiche, dipartimentali ma anche alla sede per produrre l'autovalutazione. Poi all'esito dell'autovalutazione verranno ad essere messi in evidenza quelle che sono le criticità, le aree di miglioramento adottare delle azioni di miglioramento monitorare le azioni di miglioramento fare il riesame e quindi valutare quella che è l'efficacia di quello che abbiamo prodotto o abbiamo adottato come azioni di miglioramento. Questo entro luglio del 2025 perché bisogna lasciare il tempo perché quelle azioni producano degli effetti e poi compilazione dell'autovalutazione vera prima della visita della CEV. Lo scopo non è quello di perdere tempo ovviamente perché il tempo è prezioso da parte di tutti lo scopo non è quello di fare delle prove fare documenti in più eccetera eccetera ma è quello di fare una riflessione organizzativa e funzionale su quello che stiamo facendo. Voi direte facciamo già la SMA facciamo già il rapporto di riesame ciclico e così via però come dicevo alcune volte quelli sono dei film in cui noi prendiamo delle cose già fatte vediamo delle azioni di miglioramento pregresse se le abbiamo fatte e così via adesso dovremmo quasi liberarci la mente e porci per la prima volta con un atteggiamento diverso e quindi secondo la logica PDCA che è il ciclo di Deming l'approccio, la logica relativamente ai punti di attenzione relativamente alla sede, dipartimenti, corsi di studio e dottorati è un esercizio che porterà immagino o spero a dei risultati positivi dal punto di vista del miglioramento. Questa è la scheda di autovalutazione per esempio dei corsi di studio questa è quella che è presente sul modello Ava3 io qui ho aggiunto una riga che è quella delle criticità cioè qui dovreste mettere sotto forma di keywords, di parole chiave qui poche parole chiave con le criticità più evidenti a vostro parere relativamente ai punti di attenzione dei corsi di studio dipartimenti eccetera perché? Perché questo aiuterà la governance aiuterà chi di competenza a cercare di risolvere quelle che sono le criticità prima della visita vera. Grazie per l'attenzione. Mi ringrazio penso che il quadro sia assolutamente completo e esaustivo peraltro anche nei tempi che ce l'avamo dati per cui questo già è un elemento positivo nell'autovalutazione io non so se ci sono domande da parte vostra ovviamente noi partiremo da subito con questo processo di autovalutazione e contiamo davvero di concludere la prima fase di ricognizione entro la fine di dicembre perché poi i successivi sei mesi saranno tutti dedicati a porre in essere a individuare le azioni di miglioramento questo ci consentirà di arrivare se ci riflettete in maniera puntuale alla scadenza dell'accreditamento che sarà il 2027 per cui secondo me abbiamo tutte le possibilità per traghettare l'università verso una valutazione positiva estremamente positiva della performance ora chiaramente alcune criticità potranno essere rimosse ma quello che mi sembra che è importante è che i GEP vautano positivamente anche il fatto stesso di aver individuato la criticità cioè in alcuni casi le criticità non possono essere risolte per ragioni di carattere finanziario di contesto cioè fattori di carattere esogeno che non sono controllati o controllabili è chiaro che però se siamo in grado di individuare la criticità e di porre in essere un'azione per limitarne gli effetti negativi già questo è meritorio per cui penso che questo sia poi quello che noi dobbiamo fare cioè quello che viene valutato in questo caso è il processo se abbiamo posto in essere un processo virtuoso indipendentemente dal risultato che molto spesso non dipende dalla nostra volontà o dall'efficacia della nostra azione ne abbiamo vissute insomma esempi notevoli dal punto di vista anche dal punto di vista comparativo cioè vedendo qual è il rapporto fra il nostro Ateneo e gli altri Atenei l'analisi comparativa è alla base anche del nostro stesso piano strategico d'altra parte il modello di benchmarking che noi abbiamo utilizzato beh io non so se ci sono delle domande da parte vostra sì c'è una domanda prego sì io ritengo anticipo quello che avrebbe detto Penso Vincenzo l'autovolutazione serve perché noi dobbiamo peraltro anche essere pronti noi non sappiamo quali saranno i dipartimenti interessati per cui noi dobbiamo costruire un quadro analitico della situazione onde individuare per ciascun aspetto della gestione ciascun dipartimento corso di laurea quelli che sono gli interventi correttivi per cui l'autovolutazione ma sarà una cosa guardate molto serena perché l'obiettivo sarà quello di autovalutarci per cui alla fine insomma secondo me ci impiegheremo del tempo questo sicuramente esatto perché noi il mio corso di laurea e il mio dipartimento ha già fatto AVA2 e per cui conosco la mole di lavoro implicata e allora forse la data del 31 dicembre è un po' stretta la? la data del 31 dicembre è un po' stretta allora io credo che non credo che ci abbiamo riflettuto non credo che sia diciamo stretta io credo che sia innanzitutto necessaria perché se vogliamo costruire questa cosa l'abbiamo costruita poi ecco anche in questo caso se non dovessimo completarla entro dicembre non è un problema questo voglio dire noi ci diamo come scadenze il 31 dicembre potrà essere 28 febbraio cioè voglio dire non mi porrei in questo caso un limite è chiaro che noi cerchiamo di contenerlo in quello che potranno essere insomma da settembre a dicembre perché io vedo adesso lo imposteremo se non altro tutto il lavoro entro il mese di luglio e poi speriamo a settembre la ripresa di poter implementare tutto il processo di autovalutazione ma se non dovessimo farci entro il tuo dicembre è una scadenza diciamo interna per cui non ha nessun effetto sull'autovalutazione stessa per cui questo non mi preoccupa mi preoccupa più il fatto che se diciamo incominciamo a dire no vabbè non è dicembre è febbraio tutti rallentano però effettivamente laddove dovessimo riscontrare delle difficoltà dovute a una fattore di fattori contingenti ne teremo certamente conto e nessuno sarà penalizzato perché non è riuscito a completare questo processo entro dicembre questo voglio dire ecco prendiamo in un'ottica completamente diversa questa cosa non c'è imposta dall'alto è una nostra scelta e io penso guardate chiudo per parte mia per questo ragionamento potevo dire non è una mia competenza obiettivamente e di tutti i delegati e delegati e direttori di ripartimento l'abbiamo scelto perché secondo me è una questione di responsabilità per chi verrà dopo dobbiamo preparare l'Ateneo al 2027 perché siamo tutti responsabili di quel risultato innanzitutto chi oggi ha quella responsabilità di governo per cui secondo me che io lo faccia durante il mio mandato è un atto di buona volontà che penso venga condiviso da tutti perché credo che io lo debba a chi verrà dopo di me rettore o rettrice che sia questo secondo me è molto importante ecco perché mi chiedi concordo appieno su tutto giusto le date un po' faticose da conseguire ecco perché la conferenza di Ateneo per condividere le difficoltà quando vengono condivise devo dire insomma pensano molto di meno questo penso le esperienze di tutti quanti noi e soprattutto quando lo prendiamo come una scelta nostra libera questo vorrei dire prendetelo e vi prego di comunicarlo anche agli altri qui non siamo obbligati è perché io non riesco a sopportare il fatto che il nostro Ateneo possa avere una valutazione non positiva o non estremamente positiva a fronte di quello che ho visto in questi quattro anni e mezzo la qualità c'è assolutamente c'è e oggi cominciano a comprenderlo guardate anche le comunità territoriali diciamocelo questo è cambiato completamente oggi ci riconoscono questi grandi sforzi vedono questi risultati stiamo migliorando anche sul piano della comunicazione perché spesso non siamo bravi a raccontarci non a far realizzare le cose ma a raccontarle bene Alessandro Tuorini Vengo lì così poi dopo Volevo ringraziare moltissimo il professor Zara il professor Rifano il professor Samannarini ho imparato moltissimo e avevo una un commento forse anche una richiesta di di aiuto soprattutto sul tema del dipartimento di medicina che è stato citato il professore ci ha ci ha spiegato che poi sarà comunque automaticamente incluso in qualche in qualche modo è un dipartimento che come sappiamo sta mutando e non sarà lo stesso nel 2027 perché noi dobbiamo fare un reclutamento di 47 posizioni che cambieranno completamente faccia struttura al dipartimento e avranno un effetto importante sui punti di attenzione da quello che ho potuto imparare oggi questo è il commento la domanda è anche un po' come gestirla l'autovalutazione nel momento in cui inizia oggi siamo diciamo una realtà la maggior parte dei componenti del dipartimento è qui oggi domani saremo un qualcosa di completamente diverso al 2027 avremo nuovi corsi tanti nuovi colleghi nuovi approcci dei piani strategici scritti ecco quale potrebbe essere la strategia migliore per gestire il cambiamento durante la fase di simulazione per arrivare comunque preparati quando saremo un qualcosa di diverso grazie grazie per la domanda io penso che l'autovalutazione nel caso del dipartimento di medicina che ha una specificità cioè il fatto che è nato da pochissimo molti componenti derivano da un altro dipartimento abbia diciamo una duplice ricaduta primo rappresenta un momento di riflessione organizzativa ora e consente di adottare delle azioni anche di governance alla luce di una riflessione interna quindi in un certo senso serve soprattutto come guida interna per far crescere il dipartimento il secondo punto importante o ricaduto importante è che si familiarizza con la metodologia che viene ad essere utilizzata in Ava3 quindi immagino che i colleghi gran parte dei colleghi ci saranno anche nel 2027 quindi loro familiarizzano ora con l'autovalutazione di prova che potrà essere utile per quello che significherà 2027 o anche poco poco dopo forse perché stanno slittando tutte le date cioè chi era 2025 è finito nel 2026 e così a cascata perché c'è un ritardo fisiologico nelle visite di accreditamento quindi acquisire una metodologia di autovalutazione capire il modello è utilissimo per i colleghi che ci sono ora e soprattutto quello che dicevo prima è un utile strumento di riflessione interna quindi questo per promuovere quelle che sono le azioni naturalmente quando si farà l'autovalutazione vera e in questo senso il rettore prima sottolineava il fatto della consapevolezza il dipartimento deve dimostrare consapevolezza nell'autovalutazione dei punti di attenzione della fase di iniziale della fase di crescita di consolidamento e scrivere queste cose nell'autovalutazione in maniera tale che non si ponga automaticamente al pari di altri dipartimenti che esistono da 20 anni ma deve come dire sottolineare la fase di consolidamento tipica del dipartimento in un certo senso la cosa più importante non è quella che non ci sono criticità assolutamente eccetera quanto la consapevolezza dell'esistenza delle criticità e la messa in campo di azioni di interventi per cercare di superare quelle criticità poi alcune volte sono fattori esterni che non sono governabili e che quindi determinano delle situazioni di fatto che hanno delle criticità altre volte invece possiamo intervenire noi autonomamente e migliorare quello che stiamo facendo io penso che sia molto utile per il nostro dipartimento se facciamo questa cosa posso dunque al di là diciamo di questioni linguistiche che una volta sarebbe divertente prendere in esame come a seconda delle annate l'ambur cambia il proprio linguaggio le strategie linguistiche punti di questi punti di attenzione cioè diventano immediatamente sigle che noi dobbiamo interiorizzare poi magari fra tre anni se useranno altri tipi di sigle e tutto questo mi sembra diciamo sinceramente legato al fatto che l'ambur deve giustificare la propria stessa missione anche in base ad una efficacia di cambiamento nel tempo definito quindi in tre anni ci deve essere anche un cambiamento linguistico non è detto che questo cambiamento linguistico sia migliorativo ma comunque l'ambur ci propone la sua mission che è oltre che aiutarci aiutare le università italiane anche esistere e per esistere bisogna avere un linguaggio il fatto che questo linguaggio cambi così velocemente a me fa pensare sempre che ci sia qualche trucco sotto cioè che non sia un'operazione del tutto mi dispiace che non ci sia Ulrichio in teleconferenza perché ne abbiamo parlato insieme anni fa di questa cosa vorrei sapere adesso che ha molta esperienza che come Presidente dell'Ambur che cosa ne pensa cioè perché noi appoggiamo tutto quello che ci viene richiesto e lo appoggiamo davvero con la logica come dice Vincenzo con la autoconsapevolezza eccetera serve un grado di diciamo pratico pratico pratica evidenza dell'utilità delle cose che noi facciamo allora prima l'ha accenato Terry noi sappiamo che ogni anno il margine di tempo dedicato alla produzione burocratica aumenta allora o noi facciamo un lavoro che ha una proiezione su 24 ore al giorno oppure siamo esseri umani normali se siamo esseri umani più o meno normali se noi dedichiamo più tempo a queste cose dedichiamo meno tempo ad altre cose per cui si potrebbe generare un effetto paradosso in base al quale noi facciamo perfettamente i nostri schemi le nostre griglie i nostri riempiamo i punti di attenzione eccetera e poi però diminuisce di 50 ore l'anno o al semestre o al mese la nostra capacità la nostra possibilità di studio e per dei docenti universitari studiare diciamo è la cosa più importante allora si può dire che noi dobbiamo studiare insegnare e valutare come un'unica azione va bene da tante parti della società è in valso questo modo di ragionare ora possiamo dire che è un modo di ragionare dominante e quindi sarebbe assolutamente diciamo velleitario opporsi in maniera diciamo diretta quello che possiamo fare però è chiedere delle specificazioni cioè se un presidente di corso di laurea se un direttore di dipartimento se un delegato se un docente che ha delle responsabilità per esempio sui progetti è destinato a mettere più tempo in queste cose bisognerebbe venirgli incontro cioè è inutile sperimentare sulla vita dei docenti se quel modo di autovalutare è buono è A o quasi buonissimo A buono B eccetera diamo una griglia diamo diamo degli strumenti non solo punti di attenzione anche strumenti di attenzione facciamo in modo che ci siano non delle simulazioni legate soltanto a una spiegazione come quella che è stata fatta che io non ho niente da dire cioè è tutto chiaro quello che ha detto Vincenzo ma il problema mio e quello di altri colleghi sarà quando ci troveremo a cominciare a riempire questi vuoti questi spazi allora perché non è possibile mettere insieme 3, 4, 5, 6, 7 seminari più specifici in modo tale da non farci arrivare come se fossimo l'unico che compila quella determinata classe di quesiti porca miseria io mi sentirei molto più a mio agio facciamo finta per un attimo che io sia direttore sia presidente di un corso di laurea come peraltro sono stato per 8 anni avere di fronte altri 7, 8, 10 colleghi che si trovano nella mia stessa posizione con cui potermi confrontare è fondamentale perché noi non riusciamo con la logica di competizione a quel corso di laurea ha risposto benissimo Ava 3 quell'altro no cioè o facciamo tutti un salto di qualità oppure Ava 3 sarà inutile perché maneggiare dei dati così disomosenei non consentirà all'Anvur di lavorare quindi io chiedo un aiuto in questo senso e chiedo che ci siano delle strutture intermedie attraverso cui noi ci possiamo basare per misurare il tempo che spendiamo e il tempo diciamo di efficacia grazie grazie ah no c'è un'altra domanda professor Melica io ringrazio Stefano Cristante perché stavo facendo la stessa riflessione ora quello che io mi piacerebbe che si potesse evitare in futuro è un'altra autovalutazione come si fa ad evitare un'altra autovalutazione dobbiamo fare in modo che tutto quello che oggi autovalutiamo sia classificato in modo all'interno dell'attività di ogni dipartimento evidentemente perché possa andare esattamente a essere canalizzato dove poi ci si aspetta l'Anvur si aspetta i valutatori si aspettano di trovarlo e non hanno più bisogno di farci domande perché vuol dire che hanno capito tutto come giustamente hai detto prima ora è ovvio che questa cosa non la può fare un direttore perché se fa questo non fa citt'altro cioè ci deve essere qualcuno che monitorando tiene in considerazione tutto quello che accade in un dipartimento ai fini proprio esattamente di questo quindi mi viene da dire prima la coordinatrice di scienze giuridiche dottoressa Trevisi ha fatto una domanda quindi vuol dire che era perfettamente sul pezzo di quello che stavamo dicendo quindi non è una docente ora forse vedendo Donato di Benedetto pensando agli EP all'interno degli ordinamenti all'interno dei dipartimenti si potrebbe proprio immaginare questo fargli una formazione ad hoc in modo che spingano noi docenti a correggere certe cose in corso d'opera affinché siano classificate esattamente come devono essere classificate adesso sono stato forse non appropriato nella terminologia ma qua ha ragione Stefano questa è una terminologia che o ci sei dentro dalla mattina alla sera o fai fatica a metabolizzarla a farla tua e a utilizzarla però insomma da comparatista io vivo di classificazioni e quindi so più o meno che significa arrivare a classificare scusami se ho anticipato ma c'è tenevo che sentissi anche questo pezzo di riflessione è atletico il professore Sanino buongiorno professore Vincenzo Zara no mi chiedevo sulla base della sua esperienza in fase di applicazione di Ava 3 su alcuni atenei quale feedback ha ottenuto Anvuro da questa applicazione avete già diciamo maturato un'esperienza in questo senso grazie grazie rispondo prima alle osservazioni dei colleghi e poi all'ultima da parte della dottoressa Solombrino e passo poi la parola al rettore per la chiusura dunque lo spirito di questa autovalutazione è proprio quella di smussare il più possibile la logica dell'adempimento cioè sembra quasi in contrasto con quello che ho detto però l'autovalutazione che noi dobbiamo fare serve proprio a stimolare la logica nell'approccio relativamente alle problematiche dei corsi di studio dipartimenti e così via tenete presente che la degenerazione dei sistemi di valutazione è proprio la logica dell'adempimento e allora a me spaventa la logica dell'adempimento quando un Ateneo presenta tanti rapporti di riesame ciclico tante schede di monitoraggio tante relazioni intermedie e così via sembra che l'Ateneo punti la massima attenzione dal punto di vista tecnico sull'adempimento documentale senza aver capito il senso dell'assicurazione della qualità questo va esattamente all'opposto perché cerca di spiegare o di chiarire a noi stessi perché noi stessi dobbiamo riflettere qual è la logica che abbiamo seguito relativamente ad una progettazione di un corso di studio a un dipartimento a un corso di dottorato ed è momento di riflessione organizzativa e funzionale su quello che facciamo io se tenete presente il ciclo di Deming pianificazione attuazione monitoraggio e azioni di miglioramento noi siamo spostati su monitoraggio azioni di miglioramento ma non sulla pianificazione e talvolta l'attuazione è staccata dalla pianificazione facciamo cose senza capire perché le facciamo esagero ovviamente però senza capire perché le facciamo decontestualizzate dalla strategia il senso di questa cosa è dare una veste logica riflettere su quello che noi stiamo facendo diminuendo gli adempimenti il più possibile dando la chiave logica di interpretazione di quello che significa corso di studio sede dipartimento e corso di dottorato io vedo molta tensione nella produzione di documenti non solo forse nel nostro ateneo ma anche in altri atenei i quali dedicano tantissimo tempo alla produzione documentale la stessa sua cds cioè le persone sono soddisfatte quando cliccano il tasto finale che si chiude la sua cds e il corso di studio parte peccato che quel corso di studio faccia pietà dal punto di vista dei contenuti ebbene noi dobbiamo badare con l'autovalutazione ai contenuti piuttosto che l'adempimento che è quello dei documenti quindi è ovvio che questo come diceva Stefano Cristante è un adempimento in più perché dobbiamo compilare l'autovalutazione ma è un'autovalutazione diversa come diceva il professor Alifano prima l'assicurazione della qualità è uno strumento per migliorare quello che facciamo per raggiungere meglio gli obiettivi dobbiamo sfatare il campo dal monitoraggio fine a se stesso che non serve a nulla produzione di numeri produzione di relazioni nessuno le legge nessuno le guarda si accumulano i documenti e siamo con l'anima in pace invece in questo caso serve a dare qualcosa di diverso cioè chiavi di lettura a quello che facciamo e l'ordine logico è sempre di pianificare ad avere una strategia fare le cose in funzione di quella strategia naturalmente monitorare le azioni e poi eventualmente migliorare quello che si sta facendo quindi fatto con questo approccio io credo che possa servire al miglioramento dell'Ateneo in vista della visita io ho detto che serve per la visita di accreditamento periodico è chiaro che c'è un uso come dire un fine utilitaristico ma serve quindi fondamentalmente a migliorarci noi indipendentemente anche da quella che è la visita come strumento di miglioramento all'interno dell'Ateneo ora per quanto riguarda la domanda diciamo che alla fase di riluttanza iniziale col modello AVAT3 perché gli Atenei sono un po' preoccupati per la mole di adempimenti e così via se riescono a capire qual è la natura olistica sistemica qual è il senso di quello che è il modello AVAT3 c'è anche una partecipazione attiva molto buona io ho visto per esempio Torino lo possiamo citare tanto l'Ateneo credo che stia per uscire il rapporto finale di Torino Torino ha fatto anche la simulazione prima però non l'ha fatta interna l'ha fatta con Hamburg quindi ha familiarizzato col modello poi ha avuto la visita vera ahimè ero io presidente e quindi diciamo il rettore era già un po' preoccupato insieme col direttore generale i senatori eccetera eccetera però devo dire che è andato abbastanza bene ci sono stati 300 punti di attenzione che sono stati autovalutati e valutati da parte della CEM poi di conseguenza devo dirvi che il risultato più bello che abbiamo ottenuto è che l'Ateneo su 300 punti di attenzione non ha fatto contro deduzioni ha accettato tutto quello che la CEM ha detto mentre generalmente l'Ateneo controbatte qualcosa a onore del vero devo dire c'è stata una sola contro deduzione su 300 punti di attenzione era più una questione che riguardava il nucleo dal punto di vista di funzionamento del nucleo però per quanto riguarda le strategie la gestione delle risorse dipartimenti dottorati il corso di medicina eccetera eccetera nessuno ha ribattuto cioè hanno accettato in pieno quello che la CEM ha fatto come valutazione sulla base della loro autovalutazione questo dà un po' di soddisfazione perché vuol dire che c'è stata una partecipazione attiva una partecipazione consapevole da parte dell'Ateneo e di conseguenza la nostra valutazione credo che sia stata efficace perché diciamo non ci sono stati feedback negativi in questo caso grazie si ringrazio ringrazio innanzitutto voi per gli interventi e ringrazio Vincenzo perché è stato molto chiaro nell'esposizione di quello che è il percorso della valutazione Avatre e la simulazione che stiamo realizzando ma soprattutto perché la sua presenza mi garantisce che riusciremo a realizzare questo percorso di autovalutazione nel migliore dei modi fondando sulla sua professionalità e in risposta a quello che sono stati degli interventi vedete io ho sempre parlando con Stefano Cristante ricordo quando ero direttore di dipartimento e noi eravamo molto preoccupati per questo sistema di valutazione della ricerca che all'epoca veniva implementato con molte perplessità io non vi nascondo che quelle perplessità non sono cambiate l'altro giorno facevo una riflessione che vi sembrerà strana e pensavo agli influencer agli influencer e pensavo che gli influencer vengono misurati dal numero delle persone che li seguono ed è una follia tutto questo un sistema che crea ricchezza peraltro e pensavo per assurdo ai sistemi di valutazione della nostra produzione scientifica al numero delle citazioni e consideravo quanto le due cose si rassomiglino alla fine beh io credo che noi dovremmo costruire un nuovo modello di valutazione ma non è questo il momento per discutere io sono convinto dei limiti di questa valutazione ma sono altrettanto convinto che la valutazione soprattutto l'autovalutazione sia necessaria sia necessaria per migliorare le nostre performance e non per orientarle per migliorarle e per esprimerci talvolta anche criticamente ma il sottarsi alla valutazione oggi vi dico col seno di poi è sbagliato dobbiamo valutarci farci valutare ma dobbiamo anche essere coscienti lo dissi un giorno a Vincenzo dobbiamo avere anche il coraggio alla determinazione che questo sistema va modificato forse anche radicalmente per cui io non condivido forse molti di voi non le esprimono le critiche rispetto a questo modello ma come ho spesso detto anche negli incontri con Antonio Ricchio credo che però la valutazione sia importante per migliorarci e per migliorare il nostro sistema universitario sistema della ricerca didattica la stessa terza missione ecco perché io credo che il processo di autovalutazione se volete vorrei che diventasse anche un percorso critico cioè facciamola questa valutazione perché secondo me è importante ma cerchiamo di costruire anche un'analisi critica del percorso stesso per poter proporre eventualmente anche dei miglioramenti al sistema perché questa è la capacità critica che noi dovremmo sviluppare per trasferirla anche alle nuove generazioni perché questo fa l'università o dovrebbe farlo ecco questo è importante rispetto a quello che dicevate un attimo fa in alcuni vostri interventi secondo me è importantissimo quello di organizzare dei seminari che guidino nel processo di autovalutazione questa è una cosa di cui si può far carico il presidio di qualità sicuramente organizzando dei seminari rivolti a particolari categorie di attori che sono quelli che devono poi porre in essere l'autovalutazione ne hanno la responsabilità per cui chiederò a Pietro Alifano di impostare d'accordo con Vincenzo vedere un pochettino come impostare questi seminari questo secondo me è davvero una buona proposta anche perché ecco ripeto nessuno ci vuole dire ma se noi lo facciamo adesso allora abbiamo la possibilità a settembre anche in qualche modo se i mirari sintetici come stamattina un paio di ore e risolviamo per questo per liberare tutti secondo me è una cosa importante io sono davvero contento di aver organizzato e perciò ringrazio tutti a partire dalla proiettrice dalla mia segreteria tutti quelli che hanno collaborato all'organizzazione di questo evento e il mio ringraziamento è sincero nei confronti di tutti perché chi ha partecipato oggi non siamo moltissimi ma io conosco le difficoltà anche in questo momento che ci sono per molti colleghi per cui sono certo che la vostra presenza potrà poi tradursi in una comunicazione a catena se volete con tutti gli altri e io metterei in valore questa scelta di fare questa autovalutazione per cui ringrazio innanzitutto le persone che sono al tavolo con me ringrazio tutte e tutti voi e niente se dopo avete un attimo di tempo prima abbiamo inaugurato il corner store dell'università del Salento io stesso ho fatto i primi acquisti insieme ad altri è una cosa bella che crea molto comunità ovviamente è un assortimento base che potrà essere migliorato attraverso anche il gradimento dei colleghi e delle colleghe e degli studenti e delle studentesse dell'Ateneo che acquistando ci diranno che cosa hanno gradito e che cosa no per cui lo miglioreremo questo in fondo è un altro sistema di valutazione di un'azione che abbiamo implementato per cui grazie a tutti e buona proseguizione di giornata grazie grazie grazie